Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti nel mio mondo forza. Io sono il TechPiliSpan e ho un grandissimo annuncio per voi. Siete tra i nostri supporter? Bene, vi vogliamo assolutamente ringraziare. Grazie a voi la guida sta sempre più migliorando. Nonostante personaggi come Paesiello, personaggi come Pita, voi avete deciso di seguirci e di mostrarci il vostro grande affetto. Noi abbiamo pensato di fare qualcosa per voi. Sarà disponibile un link per il nostro Patreon. Ebbene sì, siamo sbarcati su Patreon perché in questo modo vi potremo non solo divertire su YouTube, ma divertire direttamente con delle attività che vi coinvolgeranno direttamente. Cosa vi proporremo? Primo livello, voi potrete accedere a un Discord in cui entrando ci saranno una serie di canali tematizzati. Warhammer 40.000, Age of Sigmar, i vari GDR, i libri Black Library. Volete parlare di qualcosa con noi? Volete mostrarci i vostri progetti, le vostre fotografie? Benissimo, potrete farlo lì senza che si perdano in 5.000 messaggi di Telegram o altre chat. Volete giocare di ruolo con noi? Abbiamo un secondo tier dedicato a voi. Voi, partecipando su questo particolare livello, avrete la possibilità di giocare con me a Warhammer 40.000, con Umberto Warhammer Fantasy, con Pita, Age of Sigmar o a Vulcania. Potrete giocare insieme a noi. L'ultimo livello è uno dei più particolari sul Discord. Noi metteremo dei contenuti esclusivi, come per esempio dei live battle report tra il Mac e il Doc, che si sfideranno a Necromunda, ad Underworlds, a Warcry. Potrete vedere le mitiche battaglie tra me e Umberto a Age of Sigmar. Oppure potrete vedere Bob e Huge che dipingono in diretta i loro modelli. Ma in tutto questo voi potrete partecipare. Avrete la possibilità di parlare con noi, chiacchierare e porci domande. Tra poco potrete avere il link al Patreon. Voi supportateci e venite a divertirvi con noi. Grazie mille a tutti e al prossimo video!